Ciao amici, benvenuti in questo nuovo video. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e ora vi lascio all'avventura sulla via normale del campanile di Valmontanaia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Qui sotto l'attacco del campanile di Valmontanaia. L'ultima rampa di Giaie e siamo già sotto le prime raccette. Grazie a tutti. 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 Mentre recupero. facciamo una piccola. facciamo una piccola solta qua. ma questo è un secondo. un secondo, un secondo, una seconda qui è un secondo. è austriati Grazie a tutti 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 Allora Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti